Prima di iniziare a lavorare con il PFLOW, bisogna capire la sua logica. Esso è un sistema sofisticato non lineare di generazione di particles ed ha un flusso di lavoro ad eventi, sfruttando determinati tools o azioni che si dividono in due grandi categorie. Operator, sono delle azioni o degli operatori che consentono di generare differenti azioni ma solo all'interno degli eventi. Test, sono delle azioni che consentono di mettere in comunicazione, se vi passate l'espressione, gli eventi tra di loro. Esistono anche altre azioni che sono i PFLOW, sono dei tools che consentono di generare degli stati iniziali dei particles system, in questo caso del PFLOW. Difatti abbiamo a disposizione lo standard FLOW, che è lo stesso che si genera di default con la creazione dell'icona in viewport, come abbiamo fatto precedentemente. Oppure un insieme vuoto, empty o preset salvati dall'utente. BERT operator, sono gli operatori della nascita delle particles e sono i punti di sorgente delle stesse. Mischel Out Event Azioni o test che non rientrano in nessuna delle categorie sopra elencate. Dalla versione 2014 sono stati implementati alcuni tools come le M-Particle e i freebies della Orbitz Technology. Per questo motivo alcuni tools sono differenti, oltre al fatto che plugins come per esempio RealFlow, FumeFX, eccetera, installano strumenti per il PFLOW. Ma questi stessi operator e test sono reperibili anche con versioni precedenti. Sul sito della Orbitz Technologies troviamo gli strumenti free disponibili dalla versione 3DX Max 5.1 alla 2013. Poiché tale modulo di particles è stato sviluppato esternamente in primo luogo dal programmatore Dr. Oleg Byrbodin della Orbitz Technology e rilasciato per gli utenti della subscription dalla versione discrete 3DX Max 5.1 e poi pubblicamente nelle versioni successive, la 6, intorno ai primi anni 2000-2003. Le M-Particle, o MaxFX Particle, sono l'implementazione di due planets, sempre della Orbitz, che sono i Toolbox 2 e 3, ma che sono stati resi disponibili nel pacchetto Advantage Pack della subscription per gli utenti di 3DX Max 2013. Vi preannuncio che di esse non parleremo in questo corso, ma in un altro più specifico. Ma torniamo a parlare della sua logica. Per la creazione di un sistema necessitiamo di alcuni strumenti essenziali fondamentali. Analizziamo una situazione di default, quindi quella di un flow standard. Notiamo come, una volta creata l'icona in viewport, si è già presente un sistema costituito da un PFSource01 ed un Event01. Il primo contenitore denominato PFSource01, ParticleFlowSource01, per esteso, non è nient'altro che la nostra sorgente ed elemento di comunicazione dal ParticleView verso l'esterno. Difatti, se lo selezioniamo, notiamo come, dal pannello dei parametri, siano presenti i rollouts analizzati nella lezione precedente. Il renderer, che ci definisce che le particles sono renderizzabili e che appartengono alla famiglia delle geometrie, geometri. Inoltre abbiamo la possibilità di scegliere il metodo di interpretazione delle stesse. La modalità di default va più che bene. Successivamente, collegati tra di loro con una linea tratteggiata, troviamo il primo evento, il nostro Initial Event, nel quale vi sono racchiusi degli operatori come BERT, il quale definisce il timing e la quantità delle particles, POSITION, in questo caso ICON, che indica da dove saranno generate le particles, SPEED, che definisce la velocità e la distribuzione nello spazio delle stesse, ROTATE, che definisce la rotazione, SHAPE, il quale associa una forma di default cubica, DISPLAY, che indica come saranno visualizzate in viewport, solo in fase di viewport, le particelle.